Contorno a Salvatore Sì Lei ha reso varie dichiarazioni Sì In data 1 ottobre 1984 ha reso un interrogatorio nel quale si è dichiarato disposto a collaborare con la giustizia Sì E ha spiegato i motivi Sì Per i quali ha preso questa deliberazione Sì Ce le vuole illustrare alla Corte? Signor Presidente, di quando sono entrato a far parte della mafia io non c'erano queste leggi che usano queste chiamate mafiosi perché io non sono più mafiosi chiamate mafiosi Prima si ammazzava una donna poi di un piccerito Tutti i comportamenti che hanno avuto sono stati coscetti o con le forze o con le buone a poter diventare infame come loro chiedono i infami sono loro come sogno io ho infame Silenzio Silenzio Mi costringete Volete proprio che l'udienza avvenga senza la presenza degli imputati C'è la 21 in fondo Chi è lei? Come si chiama quell'impegiatra? Come si chiama quell'impegiatra con la città bianca? Come si chiama quell'impegiatra con la città bianca? Sentite se fate in questa maniera l'udienza non si potrà svolgere con la vostra presenza Io sarò costretto a fare uscire tutti quelli che fanno questo Silenzio Silenzio Avvocato Fileccia, leggo la parola Che nome ha l'avvocato Fileccia? 19, Presidente 19? Fate parlare l'avvocato Fileccia Signor Presidente Noi ancora una volta vogliamo dare testimonianza a questa corte dell'interesse che noi abbiamo a che questo processo si svolga nella più assoluta serenità presupposto indispensabile per una giusta affermazione di giustizia Noi vi preghiamo, Presidente eccellentissimo perché lei, onde evitare quello che succede che secondo me legittimamente invita l'imputato contorno a non offendere nessuno, io compreso gli imputati Ha parlato comunque in generale dicendo che l'associazione che io abbia sentito non risponde più ai principi per i quali lei era entrata Va bene Comunque io avverto gli imputati se proprio mi mettete nelle condizioni di prendere un provvedimento sarà preso un provvedimento No, no, siete voi E voi dovete stare zitti perché la legge e la democrazia coincidono su questo che è consentito che si dica la propria verità e la propria parola Va bene? Altrimenti sarete così Se volete assistere No, io non faccio delle polemiche con voi Dunque Allora, non torno Lei ha fatto queste dichiarazioni e ha dichiarato che aveva cambiato opinione Sì Lei come era entrata in questa associazione? Come è fatta questa associazione? Quali sono le regole di questa associazione? Se è stato iniziato? Io sono entrato a far parte di questa associazione Allo 75 1975 Avevo un'attività commerciale dei bestiame Essendo già recentemente amico di tanti di queste persone caratteri mie Eravamo amici Cerchi di evitare comunque riferimenti al... Ah, io sto dicendo tutte queste persone dietro a me Sì E allora nella conoscenza c'era un contrabbano di sigarette E ne ho conosciuto tanti di queste persone Dopo finire la sigaretta e cominciare la gioca Al 75 io entravo a far parte di essere chiamato uomo d'onore In quei periodi quando trasevo io Oggi non c'è più questo uomo d'onore Non esiste E' la finita di cosa nostra Ma finisce la cosa Nel 1975 lei poi è andato al soggiorno obbligato? Sì, sono andato tra il 75 e il 76 Mi andavo al soggiorno obbligato Prima di partire diventavo uomo d'onore chiamato Però come c'è diventato uomo d'onore? Che cosa ha fatto? Quando si diventa uomo d'onore si fa un giuramento Io conoscendo la buonanima Emilio Moderes Eravamo di tanta vecchia data amici Un giorno mi venne a prendere un frigorifero Avevamo un frigorifero in corso di mille All'ingrossi, Icaim E mi ha portato dalla buonanima di Stefano Bontà Là ho trovato tanti altri personaggi Chiamati omeronuri E così è nato un giuramento Un giuramento sarebbe Un tipo dice i comandamenti Non guardare le donne degli altri Gli dice sempre la verità E chi tra dice questa cosa nostra Sarà bruciata come un'immagine che mi ha dato in mano a me E puntano un dito Per diventare appartenente a cosa nostra E così mi hanno fatto anche a me Chiamato omeronuri E chi era presente quando lei... All'alba e me di Stefano Bontà Mimmo Terese I fratelli Bullerà I fratelli Federico Piaggino Loiacomo Che questi mi sono dimenticati Arverbale Da dichiarare Ricordando meglio E tanti altri Pietrino... Per entrare in questa associazione E fare questo giuramento Di cui lei ha parlato E' necessario essere presentati? E' necessario? Essere presentati? Cioè deve esserci una persona che accompagna... Quando combinano... Si dice in diale da non lasciare vocabolare Quando si combinano una persona ci sono tante persone davanti Nell'attimo che diventa... Fa parte di cosa nostra Dico ma c'è una persona che... Che conduce, che è presente... Presenta nel senso di presentazione Tutte queste persone erano presenti No... Dico... C'è una persona che conduce con sé il personaggio E gli dice... Dice agli altri Questo è degno di entrare in questa associazione Si ma questa è una cosa che avviene il giorno che uno puettano farlo combinare Avviene prima che lo frequento Ma vede che tipo esse è carabiniero Sono il carabiniero nel dialetto nostro Se vedono che un ragazzo è invalido Se lo mettono a avvicinare Dopo tanta conoscenza Un puettano a diventare uno d'onore Non è che una conoscenza che oggi mi vede E domani mi ci porta a diventare uno d'onore Provano per vedere se le famiglie ci hanno corna Se ci sono gente buone Guardano tutto Non è che incontrano uno e ci diciamo che ti faccio uno d'onore Questa è la regola di Cosa Nostra Si Questa associazione Cosa Nostra Come è ordinata? Cioè... Come si... Come è organizzata? Come è organizzata? C'è un capo Un sotto capo E dei capi di Cina E più tutti i soldati Questo è la cosa di... Questa è una famiglia È una famiglia Una famiglia E quindi questa famiglia è organizzata in questa maniera Che c'è un capo Un capo Un sotto capo Più i capi di Cina I consiglieri Questo capo Come viene nominato? Con l'elezione Se fanno l'elezione Tutte quelle persone che siamo Giudichiamo la migliore persona Che può essere più intelligente E più preparata a fare un capo Ma questa elezione come avviene? Vengono come in votazione Quando si fanno un partito politico Si fanno in votazione Dici io dico Tizio Io dico Caio E si mettono in una parte Dopo li aprono Con una viciosa Diventa Dei foglietti di carta Dei foglietti di carta E ci mettono il nome Tizio e il nome Caio Con una viciosa Diventa per Capo Ogni quanto Avviene questo? Questo Normalmente avviene ogni cinque anni Ma quando Lo vogliono Possono fare pure prima di cinque anni Ah C'è un periodo Perché lei questo non l'ha detto Nell'interno Sì ma io non ho detto tante Di quelle cose In merito In dichiarazione fatta A giudici e strutture Perché le mie condizioni Come mi trovavo Io se mi trovo qua Mi trovo Per salvarmi la vita Ma non ho paura che muoia Perché non ho più niente da perdere Perché Non tema niente La mia famiglia ce l'ho sistemata Se muoio non ho importanza Però voglio dire tutti i fatti che so Va bene Contorno Allora Dicevamo che questa elezione Si fa ogni cinque anni Però può essere Quando regolamento ogni cinque anni Però capita pure prima Può capitare anche prima Si E si fa Soltanto per il capo Della famiglia E capi sotto capo E invece Gli altri I capi decina Da chi sono Da chi sono scelti I capi decina Sono decisi Dal capo E una volta anche Con l'evoluzione Si decide Chi pigliare meglio Le persone in numero Ora lei Ha detto di essere Una persona particolarmente Vicina a Stefano Bontate Sì Ci vuole raccontare Come è nata Questa Lei è entrata Prima di diventare Cosa nostra O prima D'amicizia Quando è sorta D'amicizia Ma l'amicizia è nata Che io ero appassionato Di caccia Il bontà Era un matto Per la caccia La sua passione preferita Io ero pure appassionato E così Andavamo al tiro Alla D'Aura O al tiro In campagna O da fondo Favarella E così è nata E così è nata L'amicizia Andareci dieci Prima di entrare Nella società Prima di entrare Nella società Io sto parlando D'amico Non di Cosa Nosso Sì Ma lei sapeva Che il Bontate Aveva queste cariche Insieme all'associazione Essendo una persona Fuori di Cosa Nosso Non lo può sapere Vedo una persona Raffettata Una persona che conta Ma i segreti Di Cosa Nosso Uno di fuori Non lo può sapere Se piglia lei un lato Uno può sapere Che Cosa Nosso Vedi che è una persona Che comanda Dà ordine Ma non può capire L'importanza Se non entra a far parte Ma lei è stato presentato Da Mimmo Teresi Vero? Da Mimmo Teresi E compagni Perché conoscevo Tutte queste persone Erano amici a parte Ma lei è stato presentato Da Mimmo Teresi Vero? Da Mimmo Teresi E compagni Perché conoscevo Tutte queste persone Erano amici miei Già da ragazzi Prima di essere Omano Ma il Bontate Lo sapeva Che lei Avrebbe Era stato invitato A far parte Della storiazione Vedi una cosa C'erano pure I miei cugini A far parte Di Cosa Nosso Anzi c'era pure I miei cugini Nino Antonino Grado Antonino Grado Antonino Sì Era pure di Cosa Nosso Quindi lei Ha cominciato Ad avere questa amicizia Col Bontate E poi è entrato Dentro la storiazione Sì Perché già io lavoravo Con le sigarette Ma già ancora Non ero nessuno Perché prima Si avevano solo le sigarette Non c'era niente di male Era solo un concio a bando Niente altro In virtù di questa amicizia Col Bontate Lei ha avuto Delle condizioni particolari È stato trattato particolarmente Ma quando sono entrato A fare parte o prima? No Quando è entrato A fare parte Quando sono entrato A fare parte Eravamo 10 persone Senza Capodicina E senza sottocapo Eravamo diretti Per Stefano Bontate Diretti Cioè Praticamente Lei non prendeva Ordine da Capodicina Ma poteva Direttamente Non pigliavo da nessuno Ero diretto Per Stefano Bontate Ho capito Oltre questa famiglia Sì Nell'associazione C'è un organo Di controllo Un organo Che sta sopra Sì Sarebbe la commissione La commissione Composta di 10-12 persone Tutti Ognuno Della sua famiglia Come Stefano Bontate O come Bernardo Bruca Erano capi famiglia Dello suo paese E allora Qui c'era una capocommissione Che erano 10-12 persone Dopo sopra di questi C'era un capocommissione Che sarebbe il papa Michele Greco E questa è la commissione Sì Questa è la commissione Di cui il capo Era Michele Greco In quale periodo? Il periodo 78 77-78 In poi I principi Della Della cosa nostra Quali sono Gli scopi Della cosa nostra? E' nato Per fare bene I poveri Si diceva Quando non c'era La rocola in mezzo Il bene si fagliava Veramente i poveri Perché la gente Quando ci succedeva una cosa Non segnavano i carabinieri Venevano all'abrogata A me rompere la macchina A me rubare la casa E si ci faivano trovare la cosa Questo è il beneficio Di cosa nostra Anfino che c'erano i segretti Quando sono entrato A far parte A gioca Questa cosa nostra Chiamata cosa nostra Si è desciutta Perché solo Cosa nostra è personale Ora Non è più cosa nostra Come era una volta Ora solo per l'interesse personale Si ammazza con facilità Non hanno più problemi Ora hanno da gridare Ma che gridano? Se ne sono pentito Io sono pentito Per loro sono pentito I pentiti sono io Tutto io che fici Ma mio mare va ad ammazzare E mi trovo Signor Presidente Sì da contorno Ma tra di voi Come vi riconoscevate? Quando si presentava una persona Essendo Fa parte di Cosa Nostra Da solo io Una persona Essendo un modo loro Non ci potevamo presentare Ci voleva una seconda persona O conosceva me O conosceva la seconda persona La stessa cosa Questa era la parola d'ordine Ah Ecco E la stessa cosa La stessa cosa Se c'è una terza persona Un uomo d'onore Doveva presentare L'altro uomo d'onore Al A chi O viceversa La potevo presentare Poi Un altro Essendo io un uomo d'onore Sì E c'era un altro Un uomo Che non era un uomo d'onore Ci presentava al tizio Che era un altro uomo d'onore Però c'era Fra me Fra me e un altro Non ci potevamo presentare da solo Ci voleva un altro Che conoscevo a me O alla seconda persona Per dire la stessa cosa Queste cose Quando gliel'hanno spiegate Quando si fa il giuramento Quando si entra a far patti Cosa nostra Ah C'è una persona La più autorevole Forse La più autorevole Senza autorevole Può dire pure Un capodicino Oppure un soldato Non è che importanza Chi lo dice Che ricorda quali sono i principi Dell'associazione Sì E poi Dice anche quali sono le regole Di comportamenti Cosa può andare contro E tutto E quali altre regole ce ne sono? Mi ha altre regole Se uno guarda la donna di un altro Di un uomo d'onore Si muore Non c'è che c'è la speranza Di poter vivere Perché se vai Io verso una donna La base principale si muore I poliziotto non si toccavano I giudici non si toccavano Perché quella si chiamava Cosa nostra Questa invece non si chiama Più Cosa nostra Si chiama Che se solo per i picci L'ammazzano Ma per che cosa? Non si possono più gore Senza ma A prescindere da questo No Anche questa è la presidenza È importante No 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 Dice a prescindere da questo Ma cosa se lo interrompo Ho detto No no per carità Qui la questione è Dicevo a prescindere Ci sono altri principi Sul comportamento Che deve tenere un uomo d'onore Che lei ricorda A certi obblighi Per esempio Mi ha obblighi Mi rappiega più il piacere Del mezzo Al Al modo di comportarsi Cioè Anche a quello A quello che si dice Se si dice Se si deve dire la verità Non si deve dire la verità Nel campo di uomo d'onore La verità è sempre fuori Bugia non se ne può dire Io ne posso presentare Per esempio Come un paragono E ci piglia una persona E ci dice Questo è uomo d'onore pure Non esiste Anche questo è un punto Dopo Quando si dice una cosa Sei responsabile Di quello che uno fa Se io piglio una poche E ci dico Tu dammi 5 kg di droga Io già sono responsabile Di quello a fare Con la parola Che se mi è succeduta una cosa Io devo pagare 5 kg di droga Io sono responsabile Ma questa è una parola Che non è che non è che Non è che ne posso Piedere la gioca Non ce la pago Questa è anche Nella fiducia Che c'è di queste cose Nostre Che amate Sì Lei attraverso L'amicizia con Bontate Sì È venuto a conoscenza Lei ha partecipato All'elezione di Stefano Bontate Sì Secondo Bontate Fu nominato Non assoluto Nelle votazioni Un po' assoluto Perché c'erano i signori Della nostra famiglia Che erano inficciate Per essere un modo d'onore Però che l'ultima L'hanno tradito E già erano inficciate Dei signori collonesi In mensi di Norsi Quando è stata L'ultima elezione L'ultima votazione È stata al 79 Nel 1990 Perché si è fatta Mi chiuso Si è fatta al 74 Non in 5 anni Ma in 4 anni La votazione Ah ecco Si è anticipata Come ha detto Come io ho detto C'era no Abitualmente si doveva fare Ogni 5 anni la votazione Però Per diversi motivi Alcuna volta saltava O prima o dopo Dove è avvenuto Il posto dove è avvenuta Questa elezione Questa votazione A Villagrazia In una casa di campagna A Villagrazia Sì In una casa di campagna Di bontà Sì E lei mi diceva Che questa elezione Fu non pienamente Soddisfacente Per il bontà Sì Perché Perché già c'erano Quelli inficciati In casa nostra Sì E lei Come numeri Che cosa è successo Come numeri Come numeri di risultati Come numeri di votazione Non l'ha preso Come l'aveva preso In prima votazione Quando è salito a 75 Ma l'ha preso Con pochi voti Ma purtroppo Come elementi per bene Non avevamo E rimasti soddisfiavano bontà Perché erano tutti contro E si fanno bontà Anche quella della nostra famiglia Qua non siamo I perdenti e vincenti In merito Come dicono i giornali Qua sono i traditori E hanno fatto come giura Perciò Hanno fatto la guerra Hanno vinto Comunque bontà Per ieri il nome Il nome principale Che sia bontà Io parlo di Stefano Ma tutta questa gente Ma tutta questa gente Che ormai pigliavano i miliardi Si buttavano tutti Qui pochi E qui tanto Perciò bontà Non poteva fronteggiare Tutto il suo numero di gente A non farà giocare E bontà Era molto amico Dell'inserillo Sì Molto amico D'inserillo Di panno Piddo panno Di caccialdacci Questi erano L'unice amici Che ci sono I maestri veri Come in fazze Sapete i risultati Che fine hanno fatto Ora Ci racconti Di che cosa Si lamentava Il bontà Con lei Insomma Quelle confidenze Che ebbe Occasero di fare La bontà Delle confidenze Che mi erano A mia Erano Che aveva Tutte la commissione Non l'aveva d'accordo Perché quando doveva fare Una cosa La commissione Non è che ci dicevano Stefano Viene alla riunione Che c'è questo O Piddo panno Viene O tutti ci inserillo Decidevano tutto loro La rimanenza Della commissione Perché Li volevano Proprio mettere da parte E come infatti Hanno fatto Tanti omicidi Senza bontà Per ci pare E rimaneva a guardare Perché erano soli Come infatti Subito L'hanno levato In mensipiere Perché per la commissione Ricordionese Era importante E seminale Levarò loro E hanno l'Italia in mano Chi sceglie la commissione E cosa non c'è Quindi le lamentele Erano che la commissione Deliberava Di commettere Dei crimini Sì Senza che lui Ne fosse informato Neanche lo informarono Perché la maggioranza Come lei mi impara Vince sempre la maggioranza Ogni cosa Se io stiamo Ruggistiani Ne avevo un reso Con vincini Recio Con vincini tu Così era la commissione Ma lui Io sto ringraziando Sempre a Michele Greco Perché Michele Greco Era il capo Della commissione Se era più preciso In queste cose Se cosa succedevano I morti non venivano I polozzotti non morivano Ci sarebbero tante cose Ma purtroppo Ma il bontante Faceva parte Della commissione Sì faceva parte Perché era un capo Tutti i capi Di ogni famiglia Per parte Della commissione Chiamata commissione Ma dico La deliberazione Di questi crimini Di cui lei ha parlato Insomma Di cui ha accennato Avveniva Con la presenza Del bontante O addirittura Neanche lo cercavano Perché erano tanti Per esempio Come la gioca Io ricordo Quando sono andato A far partire La gioca Ma che era Si sentiva Qualche minima cosa Ora lei dice Invece le sigarette Va a Napoli O pure a Palermo Non ne trova Tutta la gioca Ne trova La giusta carriera I bambini Tutti ci hanno morito Ma ci hanno pure figli Neanche lei Se vede il concetto Che hanno perso Puri i figli Che hanno tutti figli Come ce l'ho pure La gioca Si ammazza la gente umana I bambini che nasce E questi omedonori Chiamali Per me non esistono più omedonori Questo dove mi trovo Oggi io seduto qua Per tanti motivi Il bontante Di questa situazione Non fece nulla Per cercare Di eliminare Questa situazione Di capovolgere Questa situazione È stata affatto Ma subito Ci rettenerebbe Poi Ci ha ammazzato A tutte e tre L'hanno fatta Subito Ma prima di questo Fatto cruento Insomma Dell'omicidio Che cosa Lui le disse Che si era rivolto A qualcuno Aveva parlato A protestare Si era rivolto A Michele Greco Ma Michele Greco Quando succedeva una cosa Quando ci conveniva Si diceva Sapeva qualcosa Quando non ci conveniva Diceva io Non so niente E pigliava tempo E tempo a campare E le cose Siamo arrivate al suo punto Come quando è morto Bontà Siamo andati da Michele Greco Per sapere le notizie Di bontà Diceva Ora vediamo Non sape niente Ma lei pensa Che a bontà Oltre a Pozzella Pino Greco Viene ammazzare la bontà O lo chiusetto Viene ammazzare la bontà E non sape niente Tu pullarà Ne ha fatto di vice Subito la morte di bontà E non sanno niente Nessuno Questa è la cosa nostra Perciò ci sono tanti Punto attori La commissione Sì Non permette Che si verifichino Dei delitti Per lo meno Per quelli più gravi Per i delitti più gravi Se non sono deliberati Dalla commissione Se non ha Il O no La commissione è venuta E nata Proprio per l'argomento Ogni famiglia Uno faceva i suoi comodi Tutti i capi di Cina Diciamo I capi rappresentanti Però ci si è tolbunto Ognuno ci voleva fare una cosa E la faceva Questa commissione È proprio nata Per bloccare tutte queste Brutte cose Che la facevano Ognuno Era patrone Della vita di un altro C'è chi era Anche lo Stato E allora Proprio hanno fatto La commissione Per qualsiasi omicida Anche per una famiglia Dentro la nostra famiglia C'era la commissione E si decideva Se quello doveva venire O doveva campare Questa era la commissione Però Ha mantenuto poco Questo giro Di mantenimento Per la decisione Se doveva venire O meno Perché tanti Hanno d'accordo La maggioranza D'accordo La maggioranza Sono molte tutte Questa è la commissione L'inserillo Oppure faceva Le stesse lamentelle Del bontate Ma non sul campo Della gioca No La gioca L'inserillo La faceva No Dico che Io voglio precisare Che si verificavano E questo Fa bene Questo vuole la corte Dico Sostanzialmente L'inserillo Si lamentava Di non essere Messo al corrente Sì Non le risattavano Perché l'inserillo Era da poco Che aveva dato Capofamiglia E cioè Era ancora un giovane Immaturo In merito Che come infatti È morto da scemo Sapendo che I colloni Si ammazzassero Se fanno contà Subito Sino in una femmina Aveva una manza Sino in una donna Solo Il compagniero L'hai morto C'è una cosa In prematura Un uomo In quell'altezza Ma Ci parli di Quello che lei sa Sull'omicidio Di bontate Come si è verificato L'omicidio Di bontate Era il suo compleanno Io un giorno Primo Ci avevo andato A fare i aguri Io avevo mandato Di catture Per sequestro di persone E avevo 26 anni Addosso Io in quell'occasione Non sono andato Alla festa Ma ci sono andato Un giorno prima Ci ho fatto i auguri Che avevamo Un'amicizia Molto intima Allora L'indomani c'è la festa Non ci sono andato Nella festa Ci sono uscite Tante di quelle persone Tante Perchè non lo iacono Come base principale Perché erano Sottoriggente Della situazione In quei periodi I fratelli Pularà E tanti altri Il lucchese Giuseppe Che apparteneva Alla famiglia Di Michele Greco E tanti altri Hanno preparato La gabbia Per chi La festa La fece In un suo idino Dopo La sera Si è niente A casa A chiedere A vedere la famiglia Dopo una giornata Che era la sua festa Da riempire A la sua famiglia Un 15 minuti Mezz'ora Che c'ha E già subito Lui aveva le persone Di una sua famiglia Che ci portavano Le battute Che i due A casa Appena riuscivano A casa Che era la radio A 20 euro Che c'era Ravano Appena riuscivano Il semaforo Ravano Via lui Ci facevano La festa E che si finiva La festa Ma il bontante Aveva ordinato Un'automobile blindata Il fattore della macchina L'avevano ordinato Perchè c'erano Del brutto umore In giro Perchè avevano Tutta la gente contro Allora non ero Ragazzino Bontà Si guardava Del pale Non faceva Del male E avevano ordinato Delle macchine Perchè macchine Sono arrivate Purtroppo Quando la morte E' successo Già la morta E chi se l'ha presa E chi se l'ha presa Questa macchina Uno sapeggio inserirlo E uno sapeggio Immoderoso Quando ha morto Già Di bontate Però all'inserirlo Non servì molto Perchè fu ucciso Lo stesso Inserirlo Era come Ceresi Pocanzi Era giovane Ancora di Cosa Nostra Non ero un uomo maturo Per poter mantenere Cosa Nostra Perchè se ammazzandoci Un grande amico Si ne va qua Si ne va La macchina abbrintata E' finita il mondo Pensi che una macchina abbrintata Possa arrivare tutto Purtroppo Ficcia finirò su Quindi Bontate Quando venne ucciso Come Doveva andare In campagna Quando fu ucciso Bontate Aveva tutta la campagna A casa sua In via Villa Grazia Sette menz'ora Non era che Che si adocca la famiglia E se ne Davanti a lui C'era un certo Stefano Di Gregorio Con 127 Pure di bontate E faceva Di battesati Per aprire il cancello Nella via Loi C'è il semaforo Di Gregorio È arrivato a passare Bontate no Di Gregorio È arrivato in campagna Aprire il cancello Bontate Appena arrivò il semaforo Mentre era fermato il semaforo E' molto buono C'è il bar E mi va a finire all'incrocio Arriva a soppassare Asciata A lei queste cose Che gliel'hai raccontate Tutti i trossi Sono fatti di Mimmo Terese Anzi Ancora è cosa da aggiungere Se gentilmente Le mi fa aggiungere Tutto quello che vuole No grazie Allora cosa è successo L'uccisione di Bontate È ritornato Il di Gregorio Che era avanti Non vedendolo più arrivato Appena arrivato a visita Ma e tenevi i feri accesi Farle preparate Meno concitatamente Se è possibile No no Ma è un'abitudine Non sono concitatato Sono calmissimo Sì sì No no Voglio dire Meno rapidamente Allora E allora Quando questa è ritornata Viste se la macchina È urtata verso il muro Con la luce accesa È sceso Ha aperto lo portello Di lato destro Che la macchina L'attraversa sulla via lui Sale così La macchina è andata La macchina è andata a finire Sulla sinistra Lui apre la porta Sulla destra E va per salire Nella macchina Ma siccome Puntava già con l'uccisione Che ha avuto l'immagine Era sceso sui sedili E il sangue Ci cadeva sul stigioolino E sulla pedana Diciamo Del passeggero Appena è salito Ci ha messo Il piede E rimesce Tutta la fronte Del piede Di Gregorio Ha visto che era morto Ha preso la macchina E si è andata Per non correre Contro la polizia Guai E questa è La morte di Puntava Sì Questo Mimbo Teresi Com'è che ha preso Tutte queste circostanze? Perché c'era su di Gregorio Era vivo Ora non so se è morto Di Gregorio Stefano Di Gregorio Stefano Stefano Sì Questo era il figlioccio Di Stefano Puntava E tramite lui Abbiamo ricostruito Tante di quelle cose Sì ma Il Teresi Si preoccupò Di conoscere queste cose Sia perché Perché era amico Di Stefano Puntava Era un rappresentante Della nostra famiglia Subito Andato da Michele Greco Per cercare Di dove veniva Il sangue Michele Greco Non sa niente Faceva l'uomo morto Non sapeva niente Perché è una cosa Molta importanza Si figura no Perciò è arrivato Da Michele Greco Michele Greco Non sapeva niente L'omicidio di Puntava Vediamo Ma vi siete preoccupati Dopo l'omicidio di Puntava Ma noi ci siamo preoccupati Dopo quelle che siamo Stati preoccupati Eravamo sei persone Quattro sono morte Cinque sono morte E l'unico che sono rimasto Sono io E mi trovo qua Perché della rimanenza Pensavo Una famiglia di 120 persone Della famiglia di Puntava Pensavo di trovarle Tutte a Baglio Puntava Nella morte di Puntava Invece ho trovato Quattro signori Che hanno venuto a sapere Cosa potevo dire io Nella riunione Nella famiglia Era una famiglia così No il funerale Il signor Presidente Non ci poteva dire Ci sono andato a vederlo Quando ho portato a casa La casa E quando Ci fu questa riunione Per sapere qualche cosa Chi fu Di dove veniva E c'è la morte di Puntava Lei fu informato Della partecipazione Delle persone Al funerale di Puntava Dal Teresi Mi pare Se gentilmente La ripete No Gliela ripeto In maniera ancora più chiara Ci andarono molte persone Al funerale di Puntava Nei funerali di Puntava La partita di Michele Greco Ci vanno a sua mogliere Ma se non va a dare Ci vanno pure a sua mogliere Ma tante gente Ci sono andate poche Io mi riferisco Nella morte di ammazzare la Puntava Io pensavo Essendo un uomo donare La famiglia è Puntava Dalla di tanti Con 26 anni Mi nevo O baglio Puntava Per sentire qualcosa Ma di quelle 120 persone Che eravamo noi Potevamo essere 10 persone 8 persone Gli arci E' bello appunto Gli arci Erano tutte vendute Tutte gente vendute Perché a Puntava Ammazzavano così E c'era un calcolo buono Come se hanno fatto I con le onese Ma come In ordine Alla uccisione del Puntate Come? Dico in ordine All'omicidio del Puntate Sì Sorsero dei sospetti Sulla Nell'interno della famiglia Sì E cioè su chi si I signori fratelli Pollarai Nino Bontà Giovanni del Terese Questi erano I signori che Avevamo vicino E si hanno venduto Il suo sangue Perciò si figura Cosa ne possono fare 10 anni Questi sono i signori mafiosi Della nostra famiglia Giovanni e Bontà Che rapporti aveva Col fratello Giovanni e Bontà Era con il fratello Sì Erano fratelli Questo lo sapevo Insomma Erano buoni I rapporti Tra i due fratelli Quello era il capo Lui era un soldato No Capirà Da un capo Un soldato Avevano un po' Fra di loro Un po' di cose Che a me non c'entravano Le cose familiari Non ne poteva attaccare Una brutta Di flusso Fra Bontà Sefano e Bontà Giovanni Erano fratelli Ma Giovanni C'erano contrasti Di Bontà Di Bontà Di Bontà Sì Lo conoscevo Ma era parente Di Stefano Di Gregorio No Che a me non c'entravano La voce A cosa nostra Come infatti Questo ragazzino E' stato Comparso E' comparsa Sempre di Cosa nostra Che cosa aveva detto In sostanza Che aveva detto Che Michele Greco Era capo mafio Michele Greco Comandava Michele Greco Qua Perché era ragazzino Che piaceva Era appassionato Rirotiro E veniva pure Da Favarella Perciò capirà Mettendo un nome Così importante fuori Cosa ci è potuto succedere Il Teresi Prese contatto Con chi Lei qualcuno L'ha nominato Mi pare Vero Dopo la morte Di Bontà Sì Dato che vi eravate Preoccupati In queste Di sapere qualcosa In mezzo In questa morte Di Bontà Andato da Michele Greco E questo Lei l'ha detto Con l'inserirlo Si incontrò Con l'inserirlo Quando è successo Il suo fattore La morte di Bontà Io non inserirlo Quando Ci è andato Diverse volte Da inserirlo Siccome inserirlo Aveva una fabbrica Di ferro In via Regione Siciliana E siamo in Moderesi Ci è andato Diverse volte Io ci dicevamo In Moderesi Non camminiamo insieme Ci è succeduta una cosa Ci fanno la flettata Come hanno fatto Con il Sefano Bontà Invece Devise Ci veniva più facile Poterci acchiappare Tutti in un mazzo Allora In Serirlo Frequentava In Serirlo Mimmo Teresi Frequentava A Totuccio In Serirlo In merito Nella Ferraria Era via Regione Siciliana E ci è andato Diverse volte Dopo l'omicidio Di Bontà Allora Il signor Michele Greco Quando Mimmo Teresi Ritorna per sapere Cosa ci vuoi fare Nella fabbrica Nel Totuccio In Serirlo Dice Tu non c'hai Gli uricchio Dice Va bene Però Siccome Mimmo Teresi Era guardato a vista Tutti i passi Che faceva La rimanenza Di gente Che potevano avere vicino Era controllato In qualsiasi modo Mimmo Teresi Ci ritornò Nel Totuccio in Serirlo Sempre Pesò del discorso Per sapere Da farsi Cosa doveva fare Michele Michele Greco Chiamò Dice Ma tu ancora Continuo Dice Da non c'hai Gli uricchio Perché sono Cavolo E tu vai In questo ritorno E finì da là Dopo Mimmo Teresi Io di nuovo Da Totuccio in Serirlo Il giorno che L'hanno ucciso Dice Arrivò Da L'hanno ucciso Da minuti E ritornò Ritornò E dopo Ancora io Nel Michele Greco Nel Michele Greco Lo assicurò Che per lui Non c'era niente Ti puoi guadagnare Il pane Le aveva La macchina E questa È l'assicurazione Nel Michele Greco Sia per me Bontà Sia per me Muterese E la rimanenza Della nostra famiglia Quelle poche Che siamo rimasti Ci hanno segnato Come commissione A parte Nico Perché Michele Greco Non ci ha voluto accettare Per mantenere Come regenza Mantenerci lui Ci ha segnato A parte Nico Perché cosa Perché quando noi Avevamo bisogno Di qualche cosa Ne mandavano a parte Nico E quando noi Travano la testa Come adulto Questo è il signor Michele Greco Io Signor Presidente Mi riservo Nella mia dichiarazione Già fatta Giudice Sottori E confermo Tutti i fatti E cosa da aggiungere Se avrei confronto Con altre persone Va bene Mi riservo Di dire Alcce cose In serie di confronto Se ci sono In serie di confronto Mi riservo Di dire Alcce cose Più avanti Va bene Io è giusto Che lo dico No dice lei Che conferma Quello che ha dichiarato Giudice Sottori Se ci saranno Se ci saranno Una confronto E ci ho cose Da riservare Da dire Senta I reggenti Quando Quando morì Se fanno bontate Sì Di morte violenta Naturalmente Sì I reggenti Chi Volevo chiederle Dovevo chiederle Innanzitutto Lei accetta Di essere ripreso No 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 Per questo sì No per paura Ma c'ho famiglia Neanche Ha pubblicato Dove abito Vedermi in televisione Quindi Nel ripreso Televisivamente Nelle fotografie Sì grazie Va bene Allora Rimane stabilito Questo I reggenti Sì Della famiglia Che furono nominati Dopo la morte Di Bontate Di Bontate Di Bontate E si adobbiaggiano Lo Iacono E Giovanni Battista Pollara Nipote di Bernardo Brugge San Giuseppiato Che facevano parte Della famiglia Facevano parte Della nostra famiglia Che però loro Ricci niente Di San Giuseppiato Perché questa è stata una storia Preparata abbastanza bene E Bontate La torta non aveva Ci hanno infettato Queste veddane In infettare un palè Come infatti Trasero una famiglia Di Bontate I fratelli Più lentamente Se le riesce Eh lo so Ma purtroppo avete ragione Io quando sono fuori Parlano i miei re canoni Guardo Dico ma che dice Io sono nella mia terra Parlo siciliano Dunque L'argomento Che stavamo trattando L'argomento Che stavamo trattando Era quello Dei reggenti Sì Questi reggenti Facevano parte Della famiglia Della nostra famiglia Era un fatto naturale Che questi poi Venissero nominati reggenti No Non era un fatto naturale Perché se era fatto naturale Il signor Michele Greco Il tuo papà Ne assegnava nella sua famiglia Dato l'amicizia Che aveva con bontà Ma siccome era Un paio principale Che fu pure Rida a farlo ammazzare Perché il Michele Che i vicoli ci piace Non si può godere E via E ne ide E manca la famiglia Vabbè Sempre cercando Di parlare più lentamente Eh lo so Signor Presidente C'ho l'animo Un po' infiammato Eh Luca Insomma Ovviamente Anche già Stare di ranza Al petorio No no Al petorio Mi trovo come sarebbe Veramente Non ho difficoltà L'argomento Di tutto il male Che c'ho dentro Il mio stomaco Questo è il punto Sì Il Dunque Lei quando si incontrò Poi con Mimmo Teresi Con Mimmo Teresi Mi incontravo L'ultima volta Il giorno di morire Che avevi dire a morire Il giorno di? Di morire Il giorno di morire Ah lui Il giorno di morire Io avevo morire Stesso insieme a lui Essendo un pochettino Più Freddo Vedendo le cose brutte Che c'erano in giro Avevamo un appuntamento Mimmo Teresi Con i fratelli Pullara E l'avevamo In fondo L'abbiamo ricevuto Il signor Pullara Giovanni Battisti Nel baio Noe Sorce Che sarebbe attaccato Con la nostra famiglia Che faceva regenza Nella nostra famiglia Perciò Quando abbiamo Con i fratelli appuntamento Mimmo Teresi Era convinto Che era a casa nostra Non pensava Un'aggia Come è stata fatta Allora Quando ci siamo Con chieri Agia sarebbe una gabbia Un'aggia Che arrivavano e morivano Una specie di trappola Una trappola Agia Allora in questo appuntamento Quando Mimmo Teresi Mi diceva C'è questo appuntamento C'è Mimmo Ma perché? No C'è la proprietà di bontà Un'eva proprietà di bontà Infatti c'è il suo baglio Perciò eravamo A casa nostra Perché da famiglia Pettinavano altri Io non so C'erano dei vecchi Mare Perciò la fiducia Mimmo Teresi Ancora scemo Ci pensò Dice Non c'è sul problema E allora eravamo In sei persone A dirci Però io E Manuel D'Agostino Non ci possiamo andare E ci sono andati in quattro Mimmo Teresi Lei rimase con Manuel D'Agostino E ci sono Mimmo Teresi Totuccio Federico Angelozzo Federico E Franco De Franco Giuseppe E qui ci sono andati All'appuntamento Menz'ora Un'ora Un'ora Passare oggi Un'ora Lei pensa che Stavano con l'appuntamento Che aveva una rotina Ha finito la festa Di quattro persone E qui ci sono andati a Ricampare oggi Lei restò con D'Agostino Sì Sì E poi Ha avuto qualche visita In casa O comunque è stato trovato È stato cercato qualcuno Dopo Sì dopo io Ci avevo A questo punto E Manuel D'Agostino Vedendo qui Ci avevamo restato L'ultima due persone Di quelle Veramente fidate E sincere Pagliò Dice Io Ora mi faccio un passaporto E me ne vai a me Dice Fai come ti pare Dice Io provvederò A me salto Allora lui Mi pregò Cosa voleva fare Per potersi salvare Siccome lui Era intimo amico Di Saro Ricco Buono Molto fidato Perché era come un figlio Di Saro Ricco Buono Sì Noi Saro Ricco Buono Saro Ricco Buono Pensando che lui Era un vecchio buippone Dice Oggi faccio piacere Con leonese Che mi mangio pure A Manuel E la mia ammela Sano vive Invece Con leonese Vecchi Lupe Si mangiarono pure A Manuel Da cucina E dopo Se cugliere La famiglia Ricco Buono E così Si fece Nella piazza Polita Non è che erano Fuori scemi Erano Tanta leggenda I vedani Chi sono i vedani Ricco Buono Poi che fine Ha fatto A fine Rosucci Io Con tutta la sua famiglia A fine Del topo Sì E come Come è successo Questo Perché Io Prima era amico Di Bontà Sia Pippo Calò Sia Saro Ricco Buono Sia Michele Greco E tanti altri Tutte le conoscenze Hanno tutti amici Di Bontà Però L'amici Si vedono Quando veramente Una di bisogno Era un amico Noi si vedeva amici Quando non avevamo Amiche Dopo I ragioni Con i piedi Così hanno fatto La rimanenza Prima Saro Ricco Buono Era grande amico Di Bontà E si vedeva Di questa volta A contatto Ma io parlo Già del periodo Quando vengono A fare parte Di Cosa Nostra An fino a Sottantotto Sottantanove Dopo Saro Ricco Buono Non si vedeva Che era sempre La tesante Come infatti Saro Ricco Buono Nel periodo Che io Era vicino A Bontà Si fece una villa O fanno Un e carissero Signor Pergiano Loiaco Nei compagni Nella villa A Villa Grazia Non so se vi ricordate Blitz Si 69 Dica Io sono costretto A formulare Un'istanza precisa A questo punto Perché Non riusciamo A capire Niente Vorremmo che Per quanto è Nelle sue possibilità Questo signore Usasse La lingua italiana Un asaggio Un asaggio Questo No Ma lei non capisce Per il dialetto O per il microfono Per il dialetto Questo purtroppo È al di fuori Delle possibilità No no Presidente Guardi Rispondo a qualcuno Io non sono toscano Io sono italiano E c'è anche Una certa disposizione Nel codice di procedura penale Ecco Ma non Non glielo possiamo Insegnare Però Ci vuole Un interprete Possiamo Noi siamo In condizione Di capirlo Forse lei E appunto Se fosse stato fatto Era una corte Non siciliana Come avrebbero dovuto fare Dunque Lei cerchi Dunque Per favore Un po' di silenzio Un po' di silenzio Dunque Se lei parla Più piano Il dialetto Siciliano Che si dica È un dialetto Che si può Intendere Sì Soltanto che lei Parla molto rapidamente È un'abitudine natura Signor Presidente Sì lo capisco Io Però Saremmo Le saremmo grati Se lei parlasse Scandendo le parole Ci provo Signor Presidente Cerchi di controllarsi Dunque Allora Si è fatto Poi Casamai Potremmo E Casamai Si nominano Un perito E si farà La traduzione Ha messo un perito Che siamo tutti periti Sì Io L'ho già invitato Avvocato Fileccia Forse lei Non mi ha ascoltato Gli ho detto di parlare Più lentamente Tutto l'italiano Che lei sa Anche se Signor Presidente L'italiano non lo sa Proprio completamente Sogno zero L'italiano E come Fice Maginatura Parla Ma bene Insomma Quello che può Quello che Quello che Quello che Quello che Lei sa Lo dica Insomma Quelle parole Poi italiane Che possa Adoperare Dunque Stiamo parlando Di Riccobono Parli comunque lentamente Perché se lei Parla più lentamente Per favore Un po' di silenzio Perché altrimenti Si aggrava La situazione Lei stava parlando Di Riccobono Sì La fine che fece Riccobono Tu ci dica Usario Riccobono Aveva un'amicizia Molto intima Con Stefano Pontà Come infatti Nel periodo 77 78 Si fice una villa Non mi ricordo Come si chiama Qua vicino La proprietà Di Stefano Pontà E si costruisce la villa Una grande villa Telecamere E cose Perché lui Era un grande ricercato Era un amico Quando dopo Se ne ho Della amicizia Si è rotta Con Stefano Pontà I tu si veniva Pura a villa La villa Ci ha venito A Petrovernengo Se la villa In Petrovernengo Essendo ricercato Pure Ci ha Dissuò Un cucino Rito Un certo Un certo Venengo Ruggiero Ad un cugino Perciò Dopo Morì Stefano Pontà Già Riccobono E lontano Non sono più amicizia E dopo Favano La sua comitata Sempre No territorio Nel Noazio Per controllare Tutta la situazione Ci veniva più facile Avendo la villa Rappoggio Aspetta Ripeta Perché qualche parola L'ho persa pure io Avevano La villa Portata di mano A portata di mano Era buono controllare Tutta la posizione Era famiglia Non è no arci Veneva più facile Allora Veniva più facile Controllare Perché noi C'avevano ben lontano Se avevano giro Per sapere cosa Avevano L'appoggio Dentro la casa E come Quando fanno Ficino Con il dottore Cassara Che ammazzare Lo semplicare E ci veniva E poi Ammazzare Non divagiamo Andiamo Un facchessimile Allora Sarò ricco Buon amico Di Bontà Un cifocchio O Manolo D'Agostino Ancora convinto Il signor Neido E' un sarecampocchio Manolo D'Agostino Con passo D'Agostino Con passo Dopo usarlo Con passo Eh? No No, no Ha bloccato Se la persona Non ha studiato L'italiano Eventualmente Eventualmente Si farà La trascrizione Del Eventualmente Faremo Una trascrizione Nominando Un perito Si Guardate Facciamo una cosa Avvocato Maffei Aspetti Quando lui Parla Io Ripeto Le parole In italiano Va bene? Lei mi ha ascoltato Mi scusi Dicevo che io Vado traducendo Quello che lui dice In italiano Vabbè Numero 79 Signor Presidente Io insisto Ancora Rispettosamente Nei suoi confronti Nella mia Precedente Instanza Vorrei Far presente Che non Tollero Non sono Affatto Disposto A tollerare Il tono E le parole Usate Nei miei Confronti Dall'Avvocato Alberini Difensore Dell'imputato Contorno Che si guardi Bene Parlando Di me E dei miei Interventi Di ripetere Ancora L'espressione Commedia Va bene Io non l'ho percepita Peraltro Perché altrimenti Sarei intervenuto No Commedia Io non l'ho sentita Avvocato Costa Vuole parlare Sì Che numero 12 Sì 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 Io desideravo Sapere No Per favore Non polemizzate Perché si ottiene Soltanto lo scopo Di interrompere Avvocato Alberini Si ottiene Soltanto Avvocato Alberini Lei ottiene Soltanto lo scopo Di interrompere Il mezzo istruttorio E se polemizzate Lei è chi Chi polemizza Con lei D'accordo Signor Presidente Io ricordo a me stesso E a tutti i colleghi Siciliani Presenti Che per abitudine E per tradizione Mi pare Che i processi I vecchi processi Di corti d'assise Non soltanto Si svolgevano Nell'unica lingua Che tante volte Dei poveri imputati Sapevano parlare Che era il siciliano Come succede A moltissimi Degli imputati presenti Ma che addirittura Il Presidente Per farsi intendere E questo credo Che sia una memoria comune Rivolgeva la domanda In siciliano O rivolgeva O come succede a Napoli Rivolgeva la domanda In napoletano Tutto questo Non è compreso Nel codice di procedura penale Perché non ha niente A che vedere Ma la domanda Fondamentale Che rivolgo io Che ho avuto La disgrazia Di capire Tutto quello Che ha detto contorno I signori giudici popolari I signori della corte Che sono evidentemente Siciliani Hanno capito Quello che ha detto contorno E allora se è così Io ritengo Che anche noi Visto che anch'io Sono da questa parte Siamo in condizione Di capire E quindi gli argomenti Mi sembrano speciosi Grazie signor Presidente No chiedo scusa A Maffei E chiedo scusa Agli altri Ma mi pare Che sia così Beh allora Parliamo tutti Su quel Avvocato Filecci Io Se Scusate Non possiamo Venire ad una No volevo dire questo Io potrei Se lui parla Più piano Più lentamente Io vado Traducendo in italiano Quello che dice l'imputato E così Per il resto Lui sta confermando Quello che ha detto Nistruttoria Perciò il verbale Dipattimentale Fatto dal cancelliere Come voi sapete Può limitarsi a dire Confermo quanto ha detto Nistruttoria Adesso E così Praticamente si registrerà Anche quello che dico io Però L'imputato Deve parlare Più lentamente In maniera che io Vado traducendo Quello che lei Va bene signor Presidente Adesso Vuole parlare Questo non la Non la Eh allora parli pure Mi dica il numero Ma lascialo lì Io parlo da lì E se vuole Ti vedo 79 79 Sì Signor Presidente Io credo che il problema Non sia soltanto quello Di intendere Ora Ciò che sta dicendo L'imputato Ma anche di avere garantito Che sarà tradotto Nel verbale Esattamente Qual è il suo pensiero E quali sono le cose Che gli dice Ora io immagino Che così come Molti di noi Non intendono E non per problemi Linguistici Ma per problemi fonici Alla stessa maniera Sono indotto A ritenere Che possa non sentire Il cancelliere Che qui non è presente Il quale traduce O stenografa Ciò che va dicendo L'imputato Perché immagino Che non sia Questo cancelliere No non è un cancelliere È un perito È un perito Chiunque esso sia E allora Dov'è il controllo Che prima che noi La Corte Può esercitare Sulla regolare Composizione del verbale Eh io credo Che questo sia Il tema di fondo Che riguarda Tutti quanti Gli imputati E tutti quanti I difensori Di tal che Ho i termini Di una intesa Sostanziale Che vuole giungere A realizzare Fatti concreti Sono rispettati Nel senso Che mettiamo In condizione Lo stenografo Il perito Di tradurre Per bene Ciò che viene detto Oppure L'alternativa Non è che La ripetizione Mediante Dettatura Da parte Di vostra eccellenza In maniera Che si costruisca Un ordinario Verbale Questi sono i termini Del problema Scusi Mediante Dettatura Perché se io La ripeto Qua al registratore Mi pare che sia La stessa cosa Adesso lo sta Ripetendo Lei signor Presidente No io Non prima Non prima Quindi noi Non sappiamo Cosa Se il perito Ha inteso Tutto Ed è riuscito A formare Compiutamente Il verbale Ora per evitare Problemi In ordine Alla traduzione A verbale Di ciò Che vi è detto Chiediamo Che le cose Si svolgano In maniera tale Che sia Intellegibile Ciò che dice L'imputato Non solo per noi Ma anche per il perito E chiediamo poi Prima ancora Di porre le domande Quando sarà il nostro turno Di poterlo esaminare Questo verbale Perché non riusciamo A sapere Che cosa c'è scritto Sul verbale Ma dalla decifrazione Poi che farà Il perito Si avrà Certo il perito Non credo che potrà Non capire Il dialetto siciliano Perché non il dialetto Guardi che io ho capito Tutto quello Ma è un problema fonico Si ma il problema fonico È per chi ascolta Ma non per chi Per chi trascrive La registrazione Avvocato Veneto Come dice Presidente Il problema fonico Può essere Per chi ascolta Ma per chi trascrive La registrazione No perché la registrazione Avviene perfettamente Semmai può essere La L'acustica Che viene Ed è Appunto Presidente Io non faccio Un problema di gergo O di dialetto Io faccio un problema fonico Ma noi abbiamo capito Perfettamente La verità è che non riusciamo a capire Questo è il punto Ma questo deve essere per via dei microfoni Io penso Perché noi abbiamo capito perfettamente Può darsi Può darsi E allora vediamo Allora Presidente La soluzione è questa Per la parte Nella quale È evidente Che non si è riusciti a capire bene Sia gentile Presidente Di ripetere la frase Lei stesso In maniera che riusciamo a capirla Questo è Va bene Senz'altro È quello che avevo proposto anch'io Sì Però intanto Io potrei La cabina di registrazione È pregata Di amplificare i microfoni Perché credo che Sia una questione Anche di amplificazione No E con Il maniere Parla molto rapidamente Quindi 26 Scusi No prego Credo Guardi Non è veramente Né un problema di dialetto E nemmeno un problema Di rapidità di esposizione Perché la rapidità di esposizione Non può essere Tolta di mezzo È il modo di atteggiarsi Dell'imputato E nessuno ne può fare niente Ma nemmeno il dialetto Perché secondo me È facilmente comprensibile Credo presidente Che se lei E i giurati popolari Fossero al mio posto Non vedendo affatto La faccia dell'imputato E non seguendo La sua mimica E non seguendo direttamente La sua espressione Non capirebbero Loro niente Perché io mi credo Di poter dire Di capire benissimo Ciò che dice anche In dialetto siciliano Senza essere siciliano Lo si capisce benissimo E anche per quanto riguarda La velocità Ma è questa la questione Pertanto Sono d'accordo Con l'avvocato Vento Che sarà necessario In questo caso Perché non si può Costringere l'imputato Né a parlare Meno rapidamente Né a parlare In un'altra Diciamo Lingua più appropriata Che lei Restituisca al verbale La sua forma ordinaria Detta e senz'altro Lei Le dichiarazioni Che l'imputato farà No E Il verbale Lui non ha fatto altro Che confermare Quello che ha detto L'istruttore Non ha aggiunto Alcunché A quello che ha detto Lei ha capito E ha anche trascritto Il che significa Che lei L'ha sentito E mi pare Che questa sia Una confessione Capisco a tratti Ci mancherebbe altro Ma giusto Lei ha capito Giusto quel punto Che le interessava No presidente No scusi presidente Questo lei Non può dirlo a me Con tutto il problema No io lo dico Perché è un fatto Ma lei lo sta Ma lo dice In maniera tale Che fa apparire Come se la mia eccezione Fosse strumentale No La prego La prego Eh la prego No non sto dicendo questo Di chiarire questo Sto dicendo Ma è strano Che lei Ha capito Questo l'ho capito E il resto Non riesco a capirlo Che significa Il resto Non riesce a capire Non mi può mortificare No per carità Non era questa La mia intenzione Dunque Vuole parlare L'avvocato Alberini Dobbiamo No aspetta E faccia parlare Il difensore Dell'imputato Mi pare che Avvocato Alberini Per favore Non usi Delle Espressioni polemiche Per favore Scusi presidente Chi conosce Gli atti Del processo Sa benissimo Che finora Contorno Non ha fatto altro Che ripetere Seppur in dialetto Siciliano Quello che ha detto Così ampiamente Al giudice Istruttore Dottor Falcone Almeno nei primi interrogatori E allora E allora Senza che ci siano Queste interferenze Che non mettono Poi paura Nessuno Su sia ben chiaro Questo Ecco E nemmeno Altre storie Che si sentono Io voglio dire Presidente Questa proposta Questa proposta E poi E poi E poi L'altra proposta È questa Se la corte Ritiene Di leggere Quello che è stato Scritto in italiano Dal giudice Istruttore E poi aspettare Le conferme O le aggiunte Dell'imputato Va bene Ma io ho disposto In un determinato modo Però Se voi mi costringete Leggeremo gli interrogatori Perché non c'è Altra alternativa Leggeremo gli interrogatori In italiano Questo nella mia facoltà Articolo 487 Del codice Di procedura penale E siamo arrivati Ad un determinato punto Dell'interrogatorio Vuol dire che Così evitiamo Tutti questi discorsi inutili Leggiamo tutti I verbali E poi sentiamo Se li confermo meno O se ha qualcosa Ad aggiungere E poi sentiamo Le varie domande Avvocato Benito Se lo chiamo ogni volta Andiamo avanti Dieci anni Evidentemente Non si sente neanche La mia voce Va bene Leggiamo tutti I verbali Di interrogatorio Signor Presidente Io ho confermato i fatti Perciò non vedo Io Per dare il mio contributo Al superamento Di questo momento Così Di ruggine La lettura del verbale Istruttorio Non è che mi pare Che risolva il problema Che i signori avvocati Hanno oggi avanzato Perché nel momento In cui dovranno Essere chiesti Dei chiarimenti All'imputato Voi da parte della corte Dalla difesa O anche del pubblico ministero Si riproporrà puntualmente Il problema attuale Allora io credo Che la lettura dei verbali Sempre per carità Rientra nel suo ipotesi Se la vuole disporre La effettui pure Nessun problema Ma mi sembra comunque Che se la decisione Che la signoria vostra Mi pare stava prendendo Di leggerla Di leggerli i verbali È determinata Dal superamento Di questo problema Io temo che questo effetto Sicuramente non lo raggiungeremo Intanto per la conferma Il verbale Mi pare che non ci possa essere dubbio Poi per le domande È già confermata Quindi già siamo in una fase In cui la corte Sta facendo delle domande Che il presidente Silenzio Fa le domande Che ritiene opportuno Silenzio Silenzio Non sentono chi Gli imputati Ah Vabbè D'accordo Non sentiranno Vuol dire Che è questione di carattere Non sentono neanche Quello che dice Il pubblico ministero Allora è una questione Dei microfoni Allora è una questione Dell'impianto a microfoni Io sto parlando In maniera Tale E la farmi ascoltare Da tutti Perché sto vicinissimo Al microfono Quindi escludevo L'ipotesi Che qualcuno potesse Non ascoltarmi Salve che non voglia Ascoltarmi Ha bloccato Mormino Facciamo parlare 45 Ah scusa Hai finito No 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 Sì ho finito Nel senso che Ripeto Non mi oppongo Formalmente alla lettura Anche perché Non posso farlo Non ho nessuna ragione Per farlo Suggerivo alla corte Che se la determinazione Di effettuare La lettura Dei verbali istruttori È finalizzata Al superamento Di questo problema Io credo Che non sia Questa la soluzione Allora l'unica soluzione Che rimane presente È quella Di invitare L'imputato Magari a parlare In maniera Meno frettolosa Se gli riesce E magari La signoria vostra Poi interverrà Di volta in volta Qualora percepirà Che qualche frase Magari non è perfettamente chiara E vediamo se Signor Avvocati Così sono in condizioni Come hanno D'altra parte Diritto Di seguire attentamente Tutto lo svolgimento D'interrogatorio Sì Io vorrei Fare parlare L'Avvocato Mormino 45 47 Sì Sì Presidente Io in fondo Mi pare di poter dire Una parte Delle cose Che sono state dette E questa volta Mi trovo d'accordo In parte Con il dottor Ayala Capita anche questo Ora dico Presidente Si sono posti Tre problemi Il primo È quello Che Diventa intelligibile Talvolta La Il dialetto Per coloro I quali Non sono siciliani E mi pare Che essi Siano destinatari Di un rispetto Alla comprensione Di quanto avviene Al dibattimento Al pari di tutti Vi è un altro problema Quello Della risonanza fonica Fastidiosissima Che impedisce A noi Che siamo soprattutto Al fondo dell'aula E agli imputati Che mi pare Anche essi Abbiano il diritto Di sentire Di comprendere A comprendere tutto È stato posto Un terzo problema Che mi rendo conto Irrilevante Però mi pare Difficilmente Risolvibile Cioè dire Quello della Possibilità Di vedere Direttamente Non credo Che a tutte le parti Dell'aula Si potrebbe fare Io avrei Da proporre Quella che è La mia opinione La prima è questa Che vostra signoria Possa sollecitare L'imputato Poiché ci risulta Che in altre occasioni Anche in occasioni Dibattimentali Abbia più Chiaramente In un posto diverso Da Palermo Dove Certamente Sarà portato A parlare In siciliano Per consuetudine Ha parlato Anche in lingua italiana Un po' più Correttamente Ecco Di sforzarsi Di esprimersi Per quanto può In lingua italiana Lei viceversa L'ha sollecitato A parlare anche in siciliano Certo sarebbe più agevole Però crea questi problemi Siccome sappiamo Che egli Anche in un ambiente diverso In condizione di parlarlo L'italiano Che si sforzi Di farlo Che lei lo solleciti A parlare più lentamente In maniera Che si abbia la possibilità Di comprenderlo meglio E che ogni volta E vostra signoria Se ne renderà conto Di volta in volta Che ci saranno Delle espressioni In siciliano E la tempestivamente Le traduca E le faccia Le esprima In lingua italiana In maniera che Tutti possiamo comprendere Ecco Vorrei dire che Ancora una volta Il processo pone un carico Alla presidenza Noi ce ne rendiamo conto Che è un compito oneroso Però Se non c'è un intervento Tempestivo in questo senso Allora succede un po' Quello che sta succedendo Mi pare che questi tre sistemi E queste tre sollecitazioni Che il presidente Potrà rivolgere All'imputato Sono Mi pare Che possano condurre Anzi Alla migliore comprensione La ringrazio La ringrazio Alzando anche Il coro della parola Il problema Il problema Della trascrizione Si porrà in relazione A questo modo Di acquisire La registrazione Ovviamente Se c'è un altro problema Poi si vedrà Che numero è? 50? 35? Signor Presidente Quanto Alla Proposta Dell'avvocato Alberini Di dare lettura Dell'interrogatorio Dell'imputato Io credo Che ciò sia Vietato dalla legge Ah questo Questa è nuova Sì Presidente Infatti L'ultimo comma Dell'articolo 441 Del codice Di procedura penale Faculta il Presidente A dare lettura Dell'interrogatorio Reso dall'imputato Soltanto nel caso Nel caso in cui Debbano essergli Mosse delle contestazioni 437 Prego Il 400 Non è il 437 441 Così recita Presidente Il Presidente Il pretore Può contestare All'imputato Le dichiarazioni Da lui Fatte precedentemente Dando lettura In tutto In parte Dell'interrogatorio De lui Il reso durante L'istruzione Prego Può contestare No no Solo Può contestare No ma Mi pare che Dica Il solo caso Nel quale Può essere data Lettura Dell'interrogatorio Reso nell'istruzione Da parte Dell'imputato È quello Nel quale Debbano essergli Mosse delle contestazioni Ma contestazione In questo caso Significa La rappresentazione Di quello Che lui Ha detto No Presidente Perché il comma Precedente Stabilisce Il modo Dell'interrogatorio Perché in mondo In mondo Si è dato lettura Dell'interrogatorio L'abbiamo dato In questo processo La lettura Dell'interrogatorio E lei Non si è mai opposto E' ben strano Che lo faccia Soltanto adesso Signor Presidente A parte L'interesse particolare Che ho All'audizione Diretta Dell'imputato Se non mi sono Opposto prima Intanto Mi consenta Di dire Presidente Signor Presidente Io non voglio contestare Allorché Vennero interrogati No 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 Dico contestare Le dichiarazioni Non è che significa Che questa volta Lui deve dire Una cosa Ma Presidente Poi le interpreti Lei è la norma Voglio dire questo Ma allorché Vennero interrogati I due cancellieri I miei clienti Io chiesi Esplicitamente Che l'interrogatorio Avvenisse A esenze Dell'articolo 441 Del codice Di procedura penale Quindi non è vero Che non ho mai fatto La questione No ma non dico Non ha mai fatto La questione Però dico Gli altri interrogatori Sono stati tutti i reti Come da domanda in mondo Si fa nelle aule giudiziarie Ma bene Presidente Dunque L'Avvocato Costa Ma io credo Che si possa superare L'Avvocato Mormino Ha offerto effettivamente Una chiave Attraverso la quale Si può innanzitutto Tentare di andare avanti E poi Se fosse impossibile Se fosse proprio Ci fosse una deficienza tecnica Da parte dei microfoni Possiamo Signor Presidente Io volevo Semplicemente Farle osservare E rendere noto Ai giudici popolari Certamente Non Al Signor Presidente E ai signori giudici togati Che L'ultimo comma Dell'articolo 441 Al quale ha fatto riferimento Il collega Che mi ha preceduto Dice testualmente E non c'è un soltanto Che evidentemente È stato per errore Aggiunto alla lettura Il Presidente O il pretore Può contestare Può contestare All'imputato Le dichiarazioni Da lui fatte Precedentemente Dando lettura In tutto In parte Dell'interrogatore Da lui reso Durante l'istruzione O del verbale Di sommare informazioni Mestiamate dall'articolo 225 Allora Che cosa è riferita A questa lettura Al fatto Che tu oggi Rendi una certa dichiarazione E ieri Ne hai reso un'altra E do lettura di quella Se invece Il collega Ha la cortesia Di andare All'articolo 437 Che è proprio Quello della direzione Del dibattimento Che aspetta Il Presidente O il pretore Io l'avevo richiamato Il 437 La prima frase Il Presidente O il pretore Ordina le letture Quelle che vuole E quelle che crede E' chiaro come il sole Che è i fili Della oralità Del dibattimento Io non sono qui A dire delle cose diverse Da quelle che sosteniamo Dunque mi pare Mi pare che stiamo dando L'Avvocato Amor Miro Comunque 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 Quella ultima Sì Una C'è Si avrei una richiesta Precisa da fare Anche per troncare Questa discussione Che non mi porti Non mi pare Che porti Nulla di buono Io richiedo formalmente Che venga ripreso L'interrogatorio Dell'imputato Presidente Ripreso L'interrogatorio Dell'imputato Perché stiamo a discutere Per dare un pomeriggio Non c'è nessun motivo Per non farlo Ripreso Ripreso adesso Che lei continua L'interrogatorio Che aveva già iniziato Ah ripreso Nel senso di ricontinuare Sì che lei continua L'interrogatorio L'imputato Mi pare che l'Avvocato Amor Miro Abbiamo fatto una proposta Assai ragionevole Che va a seguita E se però si fa Un po' di silenzio In aula Nel senso che Ora vediamo L'imputato Alle domande Che gli vengono rivolte Se lui Lei deve provare A parlare Più E lentamente Sì E poi In modo che io Eventualmente Intervengo Se c'è qualche frase Dialettale Che può anche Non essere intesa Da chi non è siciliano Io la traduco Va bene Va bene Va bene Allora Vediamo un po' No per favore Ora basta Su questo argomento Sentite Se i microfoni Non funzionano E' un altro paio Di maniche Se c'è qualche Imperfezione tecnica Si può cercare Di sistemarla La mia voce La sentite bene Perché io No Non la sentite bene Ah Neanche la mia voce Allora evidentemente E' una questione Di carattere Il pubblico Il pubblico Non sente bene Eh No No Assolutamente No Non si sentirebbe Avvocato Filecia E poi si deve anche Registrare Io direi Io direi Io Insisto Allora Allora Cerchiamo di parlare Lentamente E poi In maniera che Eventualmente Io faccio qualche Intervento Per chiarire Qualche frase Io gentilmente Lo vorrei aiutare Anche in me Dove avere questi problemi Lei in aula Io quando lei Vede che sono in difficoltà Lei mi ferma Per questo si la ripete Se lei vanna più adagio Cioè più lentamente Vediamo di potercela fare Aiuterebbe tutti Poi non solo me Perché io per la verità Ho percepito tutto quello Che lei ha detto Ma purtroppo Però E' giusto che lo percepiscano Tutti gli altri Ma bene Perché Il dibattimento È fatto per questo Nell'oralità È il contraddittorio E allora Lei stava parlando Di Rosario Riccobono Sì Vuole per favore Riprendere Il discorso Che stava facendo Che ci stava raccontando La fine del Riccobono La fine del Riccobono Come io avevo detto Era amico di Stefano Pontà Era amico di Stefano Pontà Molto intimo Molto intimo E questo Emanuele D'Agostino Aveva una stima enorme Sembravano padre e figlio Quando lui cercava Che avevano ammazzato Chi aveva la stima Sia Riccobono Verso Emanuele D'Agostino Sia Emanuele D'Agostino Era una stima reciproca Reciproca Sì Sembravano padre e figlio Quando è successo Il fatto di Mimmo Terese L'unica via del campo C'è rimasto di andare Da Saro Riccobono Il signor Emanuele D'Agostino Purtroppo arrivando là È stato l'ultima Sua giornata di vita Non si è saputo più notizia Di Emanuele D'Agostino Ci fermiamo là E andiamo più avanti Nell'argomento Di Saro Riccobono Tutta questa preparazione L'ha fatto Dembe in mano Il signore Colleonesi Perché Era un membro De la famiglia Di Pontà E allora Pontà Il primo amico L'ha ucciso E Emanuele D'Agostino Emanuele D'Agostino Finisce Quanti signori Colleonesi Si sono finite Di pulirsi le ersate Si sono tirati Il signor Riccobono Con la tutta E adesso ci hanno Tutto sotto controllo Sempre tramite Pippo Gambino Perché Pippo Gambino È diventato un elemento Di primo appunto Successivamente Poi alla sparizione Del Mimo Teresi E degli altri Lei ricevette delle visite Si Io stavo facendo Una casa in costruzione Stava costruendo una casa Una casa E avevo come amico Un certo Mariano Marchese Di Villa Grazia Non Villa Grazia Non Villa Grazia di Carina Ma Villa Grazia di Palermo Villa Grazia di Palermo Un certo Mariano Marchese Non ho detto Mariano Chiamato Mariano Un certo Un certo Mariano Marchese Cioè un tale Mi sembrava che aveva detto Ho capito male io Signor Presidente Un tale Chiamato Mariano Marchese E avevamo amici Perché io commerciavo La mia attività In commercio del bestiame Nel commercio del bestiame E questo aveva una montagna E c'aveva pure L'allevamento del bestiame Quindi possiateva Un terreno in montagna E c'aveva anche In Villa Ciambra A Villa Ciambra Io ero conoscente Perché ci andavo Lui veniva da me Eravamo amici Però questo era Pur uomo d'onore Come me Però era un uomo d'onore Come me Sì E allora questo Mi è venuto a trovare Dopo la morte De Quaggio Mi racconta Mi racconta I particolari I particolari che le ha raccontato Le chiedero la sensazione Che lui fosse stato presente È chiaro Non le può avere detto Non le può avere sentito Da giornali I fatti Perché nei giornali Non sono mai venuti Se fatti È una cosa Che lui c'era in mezzo Nell'omicidio Dei quattro persone Rappresentante Mimmo Terese I fratelli Federico Di Franco Giuseppe E mi raccontò In particolare La compagnia che c'era Io Essendo un po' E come lo spiegò Il fatto che Perché questi Appartenenti a Stefano Pontà Avevano vagliato La commissione Avevano Vagliato in merito Avevano sbagliato Avevano sbagliato C'è amici che Appartenenti a Stefano Pontà Ferrando queste quattro morte La guerra era finita A me mi vengono Più asciuti Perché se capitavo Nei quattro Era la stessa fine La stessa mia Sia mia che sia da così E lei non capitò Nei quattro Perché? Non ci sono andato Perché ci ha detto Quattro persone Mimmo Terese Era ancora Occhi chiusi Diciamo occhi chiusi In dialetto nostro Perché se lui era furbo Quattro persone Non ci dovevano andare Ce ne andavano due Invece se ne ha portati I quattro E tutte e quattro Hanno fatta la stessa fine E questo Mariano Marchese Mi racconta i fatti Però io non mi ci rometta Dici ma perché Perché faccio parlare a lui Perché se io mi ci rometto Lui va a rapportare Ai signori fratelli Pullarà E compagno Io mi fermo Lui parla Io sono qua Sono all'attitante E non mi faccio dire Perché ho il problema Che c'è il mandato di cattura Di 26 anni Dice ma per te non c'è niente Non ti preoccupare Va bene E conto no Mi racconta tutti i fatti Io l'ho lasciato pulito A livello di due giorni Di questo signore Viene Giovanni Battista A Pullarà Dove faccio la casa Mi viene a trovare Che si è ricido Ci siamo qua Ci ma perché Non ti fa vedere Questo deve permettere Che un reggente Non ti fai vedere Non ti fa vedere Vice un reggente Della già Che piglia Possesso la famiglia Bontà Aspetta Lo ripeto Perché questa volta Già questo Giovanni Pullarà Si è messa a disposizione sua In che senso Per farmi capire Che era un uomo pulito Siamo amici Era malottiro Lui pensava Io purtroppo Non ci sono creduto E lui se n'è andato In questo argomento Dopo Dato che io non sono andato Con Mariano Marchese E col Pullarà Che lui mi diceva Di farmi vedere Come diceva lui Hanno cercato L'unica assata Di farmi fuori Con la compagnia E come infatti Hanno fatto il lavoro Che voi sapete Poi dalla corte E mi ha tentato Che hanno subito Vediamo questo Com'era morto Riccobono Dimmo Teresi Com'era successo Che era presente Perché lei per esempio Ha fatto qualche altro nome Sì Io non lascio Per più di lasciarlo parlare Di come ha fatto Mi pare che Lo devo frenare Perché parla Rapidissimamente Non ho capito Che questo è il suo intervento Io le sto facendo Delle domande Perché Io lo lascio parlare Ma la domanda Che la devo fare Se lei Con il suo consenso Magari Perché Vuole che lei Abbandoni gli argomenti Io Credo che Non abbia Non c'è nessun dubbio Che io possa Condurre L'intervento Come voglio Dunque Lei stava parlando Del Del suo tentato Omicidio Lei è arrivato Praticamente Al tentato Omicidio Ma ancora prima Il loiacono Il pietro loiacono Lei pensa Che fosse stato presente Il pietro loiacono Io ho avuto conferma Quando ci siamo congiati A Ascoli Piceno Nelle carceri Di Ascoli Piceno Lui è arrivato di notte Sì Lui è arrivato di notte Di notte Io non che l'ho vista Perché dormiva Nelle mattinate Passavano il latte E viene una guardia cacceriera Dice C'è un bicchiere C'è un bicchiere Perché c'era una sezione C'è un bicchiere Un bicchiere C'è un bicchiere C'è un bicchiere Dice Arrivo un palemetano E ce l'avevo angolo Di fronte alla mia cellule Ma lei chiese un bicchiere Perché La guardia Perché la mattina Passano il latte Ah ecco C'è subito C'è un palemetano C'è come si chiama Era Polentone Diciamo Questa guardia Non mi ha saputo bene il nome Però ho capito Era questa guardia Com'era? Polentone Ah Polentone Di Loiacono Non lo pronunciava bene L'ho capito L'antuire Dopo di fronte a me C'erano ragazzi politici Ma che Diceva un certo peggio Loiacono Dopo si affacciò Lui Ho vincito gli occhiati E così Ci ho dato il bicchiere Dopo a ora di fare la società E è venuto in cellula da me Cioè Nell'ora sociale Nella vita sociale Che si fa nelle carceri Lui è venuto a trovarli L'ho invitato C6NK Che è una persona grande L'ho invitato E che cosa le disse? Appena lui è entrato da me Che si riesce Non si riesce Veri che felini Che fici Si faceva La parte dell'innocente Invece lui è l'attore principale Del gioco che hanno fatto Io già sapendolo Sono scelto io A farlo andare via Perché era bello Nel quel giorno Insieme a me Eravamo tutti e due Era una buona invitata Praticamente lo fece andare via? No Abbiamo parlato Dopo c'era l'ora di aria E io sono sceso all'aria Dice io non scendo Perché lui malvagio Pensavo che lo facevo Qualcosa male a lui Mentre io vado all'aria Ritorno dall'aria Vado sopra Non lo trovo più dalla sezione E si è passato In sezione In un'altra sezione Con certo Giuseppe Baldi In un'altra sezione Ma non eravate Era vada nella stessa cella No Nella stessa sezione Di fronte Nella stessa sezione Però di fronte Le cella erano Arrivato la notte Ma lui venne a trovarla Arrivata la notte Signor Presidente Sì Giuseppe Baldi Giuseppe Baldi Puro uomo d'onore Giuseppe Baldi Sì Dopo ci siamo incontrati All'aria Dice sai Io sono male Di qua di là Perché lui si aspettava Qualche male di me Sapendo che lui aveva fatto Ma io al primo incontro Non ci ho fatto niente Però lui mi ha messo A dir i fatti Che lui Sapeva tutto Però lui Del carico Li dava ghiaccio Lui non sapeva Dice non c'entro io Ha fatto la fine Dei miserabili In poche parole Che cosa le ha detto Che il fattore Della morte di Bondè Di Mimmo Terese Non ha potuto fare niente Perché l'avevano ordinato Perché l'avevano fatto qua L'avevano fatto E' solo dei chiacchi Che si usano Nel gerbio Che si usa E non aveva potuto intervenire Non l'ha potuto se ballo Non l'ha potuto se ballo Favore fondente Perché era stato ordinato C'era E non l'ha potuto se ballo Non l'ha potuto se ballo Va bene Andiamo Del fattore Del fattore Del fattore dei personaggi Vanno a ammazzare i quaggio Vuole i nominativi L'ho fatto Se gentilmente Lei le vuole ripetute Usano Li può leggere di là Sì Ce le ripeto C'era I fratelli Pularà Franca Adelfo Il nipote Franca Adelfio Il fratello Di Franca Adelfio Il fratello Di Franca Adelfio Giannuzzo Adelfo Cugino di Adelfio Pietro Fascella Pietro Fascella Pietro Fascella Giuseppe Gambino Giuseppe Gambino Totuccio Profeta E non ricordo altri Che sono scritti Gentilmente E Profeta Sì E Pietro lo iacono Pure in mezzo E Pietro lo iacono Sì Questi sono morti Nel baglio Di Neno Sorci Ci racconti L'episodio Del suo tentato Di omicidio Sì Io non ricordo Il giorno Che mi è successo Perché non avevo Interesso A ricordare Il giorno Mi trovavo A casa di mio padre Mentre io mi trovavo Da mio padre È venuta mia moglie Col bambino Mio figlio E un altro bambino Suo padre Che abitava In via Ciacoglio In via Ciacoglio In via Ciacoglio Allora Quando mia moglie È venuta a Ciacoglio Aveva la sua macchina Finito Che abbiamo lasciato Un'ora Mezz'ora Che è stato Da mio padre Ci avviamo Verso mia socia Mia moglie Col bambino Mio figlio E quel bambino Doveva andare via Quello bambino Che era amico Di mio figlio Non è voluto andare Con mio figlio Se mi si andava In maniera con mio Io non lo volevo Questo bambino Era un bambino Un ragazzo Un bambino Era che amico Di mio figlio Quanti anni Un compagno Mio figlio Aveva otto anni Un compagno di scuola Era un compagno No no Era vicino di casa Erano soltanto Degli amici Sì Vicino di casa Come si chiama? Non ricordo il nome Non mi viene per il momento Ma lo posso dire Se lo ricorda Poi me lo dirà Pesco Dopo c'è un ragazzino Che fa Non voleva andare via Con mia moglie Io dice Me ne vengo con lei Signor Totuccio Comunque Mi è convinto Mia moglie Aveva partito Aveva fatto circa Mille metri Mille e cinquecento metri avanti Mentre io Faccio da Ciaculle Arrivare verso Via Conte Federico Via Miro Giaffere Miro Giaffere Da Ciaculle Verso via Miro Giaffere Sì Contro un cento ventisette Con sopra A bordo Pino d'Angelo Questo Io lo vedo Perché è brizzolato Lo soppasso Lo saluto E questo rallenta Mi ha fatto un po' Già Di soprassalto Quando io arrivo Sopra il cavalcavia Insomma L'ha dato sospetto Questa presenza Mi ha tirato un po' Quando io arrivo Sopra il cavalcavia Ma per quale motivo? Perché questo Mi fa soppassare Mi saluto E Sanione Che dice a Culle E pure un modo onore Io da vecchio lupo Penso che qualche cosa in giro c'è Subito mi ha tirato l'attenzione Che insospettito E Sanione L'ha borgato Non è di là Io lo soppasso Lui da solo Mentre io lo soppasso Arrivo sopra il cavalcavia Di fronte a me C'è un palazzo Quarto o quinto piano Che arriva Ci sono tre palazzini Uno dietro l'altro Lei ha imboccato Il cavalcavia Da Ciaculle Verso C'è il cavalcavia Che si passa sopra l'autostrada Mentre sono Il cavalcavia Sopra il cavalcavia Già io marchio Di quella macchina Che ho superato Mia moglie Avante con la sua macchina No? Tua moglie Si è andata per contro Sì avanti E io c'ho il bambino in macchina Questo ragazzino Amico di mio figlio Quando arrivo in questo attimo Io vedo Nel palazzo L'altra volta Nella dichiarazione È confusa Perché c'è detto Dietro la finestra Non è finestra È una veranda Tutta a lungo di vece È una veranda C'è una porta Tutta a vece Perciò l'ho visto abbastanza bene Il signor Enzo buffa Messo dietro la finestra Con la radiolina Perché ce l'ho così Come di qua da lei Ce l'ho bello E lui alto Lo vedo abbastanza bene Sulla mia sinistra C'è la proprietà Del signor Bessi e Filippo Che distanza ci può essere Da quella Cavalcavia? Sì dal cavalcavia Ma neanche 20 metri 25 20-25 metri Sì è là Sulla mia sinistra C'è il giardino Che si scende Vado qua E c'è la discesa Del ponte Sulla sinistra C'è un cancello in ferro Con tutte le varie E c'è Mario Sulla mia sinistra Sulla sinistra C'era un cancello di ferro E la campagna E c'è Mario Pessi e Filippo E la campagna La campagna Ah la campagna C'è Oedino E il Pessi e Filippo E vedo Mario Pessi e Filippo Dietro il cancello A questo punto Io che vedo Mario Pessi e Filippo qua Vedo questo qua Com'era questo Pessi e Filippo? In piedi? Era a me C'era il portone E ci sono il varie Lui aspettava che Desce un via e c'è Era dietro le sbarre? Sì No dico La figura com'era? No normale Lo vede benissimo Lo vede benissimo Cioè in piedi? Sì in piedi Era appoggiato Alla cancello Perché aveva L'occhio vivo Di dare la segnalazione A quello signor Buffa Che arrivavo Perché? Perché la motocicletta Che è uscita È uscita dal garage Del signor Buffa Sotto il palazzo C'era la motocicletta grossa Che esce Per più c'è l'occhese E' pieno di serpuzzella Lucchese portava la moto E' pieno di serpuzzella Messo di dire Appena mi arrivano Che io arrivo con la macchina qua Loro mi taglia un'asciata E vengono davanti Mi diranno la prima raffica Io mi butto Aspetta Aspetta La concitazione La concitazione è però Spiegabilissima Comunque Lei Lei stava Lei ha visto Il prestigio E ha continuato la marcia Sì ma Già sono nella discesa Che quasi scende piano Che c'è l'incrocio C'è un incrocio Che si vorrebbe andare Verso la d'alcalanza Sì Perciò io Quando scendevo l'uomo Ponte scendevo il garage E questa motocicletta Proveniva da dove? La motocicletta Viene dove c'è il signor Buffa L'ultimo piano Sotto c'è il garage La motocicletta Nesceva perché È un vicolo cieco Esce dal garage Perciò era tutto Tramite il radio Fatto il lavoro E questo Buffa Lei l'ha visto che Sì il Buffa Era direttore Aveggia da sopra Sì questo l'ho capito E questo è il padrone del palazzo E lui c'è l'appartamento L'ultimo piano Aveva una radiolina in mano? Sì sì Cioè qualche cosa che No 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 È in cuffia Radiolina proprio in mano Perché del radiolina Me lo intendo Io fai per contrabannare E le conosce pure Sì mi schierò Quindi secondo lei Questa motocicletta Era una motocicletta Di piccola cilindra No no Era una grande motocicletta Arrivata senza rumori Quando io vedo Era una grossa motocicletta Grossa motocicletta Grossa motocicletta Che è arrivata Senza fare molto rumore Siccome il lo chiesetto Per natura Per natura È piccolo Era o è piccolo Perciò sopra per la motocicletta Ci stava Non era un pilota buona Per la motocicletta Perché la motocicletta L'avevo pure Ci voleva appoggiare i gambe Per uno Per una motocicletta grossa E uno piccolo Non va bene Comunque Quando loro sono usciti Io vedo questo L'ho chiesetto Era amico mio pure Da vecchia data Quando mi viene di fronte Aveva una faccia da morto Mi mangio la prova La foglia completa Sono per me Sono finito io Io mi buttavo Sopra il piccerito Sì Buttarono sopra il piccerito Lui mi faceva Prima rafficare Sul bambino Si è buttato sul bambino Io sul bambino Abbandonando il volante Naturalmente Ho abbandonato la macchina E la macchina che fece Lui mi faceva Prima rafficare Io non piglio No no Non mi faccia finire Dico la macchina L'abbandono La macchina abbandono Camina per i fatteriti Quindi camminò E andò a battere No no Arrivò non mi faccia E si fermò Lui mi durava prima raffica Appena mi durava prima raffica Io ancora non avevo niente Non ero colpito Mi susivo E poi ti pare le cammate Mentre io da lì Loro stanno ritorno In anno Ritorno La cammode Io arrivo a fare 100 150 metri Mi fermo davanti al bar Lo signor Pace Si ferma davanti al bar Del signor Pace Arrivo là Mi fermo là E c'è un bambino Che c'è il sangue della faccia Butto il bambino Nella macchina E mi metto davanti Il motore della macchina Perché la macchina Era un 127 Era una macchina normalissima Però già era tutta Bocchellata Quando loro ritornano Mi continuano a parare Di nuovo Appena mi pararono Io mi ammucciavo Alla macchina Già il bambino L'ho buttato E rimango nella macchina Perché io sono il capo Mi fregano Mi firmavo Pidia pure voi Però appena loro sono arrivati Che siamo lo paciente Ci mi sa parare E ci ho tirato i 5 k Campe E se il pozzello Ha pigliato Scarpostritto E' stato colpito Colpito Perché aveva Era lui che fa l'operazione E lei se ne è accorta Che era stato colpito Sì perché sono fermo Io dirò la macchina col motore No dico Se ne è accorta In che Come me ne accorgo Perché quando io ci parlo Lui cade Era una macchina di ciretta E va per terra I colpi lui Invece di portarlo sopra di me Li portava in una sala cinesa Non me la siano E a primo piano Uno al baircone Come ha fatto Perché l'ho preso E chiudono un tiro Perché a questo punto Io non ho più niente da fare E c'ho macchina davanti E macchina di dietro Davanti c'ho Fosso Maichese Davanti Con il BMW Metallizzato E dietro c'ho Un golf Con c'è persona Salvatore Cucuz E un altro Che non conosco A questo punto Vanno ben felici Con i pamenieri Si caricarono Il signor Crepuzella Non il BMW E se lo sopportato E questo è il mio attentato E dopo un giornale Sono venuto fuori Che ero io Caricato una macchina E avevano sequestrato Questo è il mio attentato Lei vide pure il Filippo Marchese Si Filippo Marchese Con BMW avanti Con BMW Molinciano Molinciano Sì Per chiudere Dopo cercavano Di chiudere il nome Mianzo Nell'attimo Si di chiuderlo Perché ci fevano Di navetta davanti Sì Fra BMW Comunque stiamo traducendo No Non mi pare che lei Non abbia capito Tutto il racconto Che abbia fatto Perché mi sembra Abbastanza chiaro Comunque adesso ripetiamo Anche per rendere intelligibile Quindi lei è stato La motocicletta Veniva da questa strada Senza uscita Veicologioso Veicologioso Attualmente ancora Veicologioso 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 E mi sono avvicinato Così Appena mi sono arrivato Mi hanno aperto La prima raffica Io vedendo L'occhiese Con una faccia di molto E il Carpozzella Perché il Carpozzella Per fararmi Ha uscito Ha fatto tutto il suo lavoro Di uscita Perché davanti C'è dovuto spostare E mi ha fatto La prima raffica E le sparò La prima raffica Sì Di Calaschenov L'occhiese Do chi sarebbe L'occhiese Do sarebbe Il nipote Di Masino Al-Badaro Il nipote O figlio La sorella E nella famiglia Ricciaculla Da Michele Greco L'occhiese Giuseppe Sì L'occhiese Giuseppe Rito Picciredo Assistete qualcuno A tutta questa scena? Tante gente Ce ne sono tante Però Capirà Un fattore del genere Nessuno si avvicinò niente Perché come infatti Quando arrivò la polizia Andato a cercare Non c'era la macchina Non ero io a cercare Non è come ci avevo fatto Arrivò Non c'era la macchina Ci fece le fotografie E io vedevo Tutta la scena Che è successa Lei dove se n'è andato? A pochi passi Lei scappò a piedi E come per dire? E il ragazzo? Il ragazzo S'era andato subito a casa S'era portato all'ospedale Perché io pigliare Non dava facile A lei lo portò all'ospedale? Io? No, lo portarono? Io abbandonavo Mentre lo so buttarlo Dalla macchina Dopo non so più Un ragazzino L'hanno portato all'ospedale Lo sabato dopo E lei scappò a piedi? Soprattutto perché c'è la campagna vicino Sì E dove se n'andò? Mi firmavo un campagna E ho visto tutta l'operazione Ha visto tutta l'operazione? Sì Dopodiché? Dopodiché mi sono allontanato È chiaro Sì, certo Lo capisco Se n'andò a casa? No, a casa era la di tanto Non ci poteva andare Mi sono andato Alla ragazza per com'era Io ho avuto solo un graffio Nel fattore Sì Nel mio attentato Solo un graffio Il Questo greco Scarpazzetta Sì E lei dice che fu colpito Sì Ma come mai allora? Fu colpito perché lui Quando io pigliavo È successa anche la precisione Che pigliavo un opiat Dopo una paio di giorni Tramite Tramite un mio cucino Lui è caduto per terra Sì Quando L'ha pesa nel petto L'ha colpito nel petto Lui è caduto per terra Sì La macchina BMW L'avanzi Che ha fissuto un accendiccio E ho fatto un custo di 10 Su carregar E se nè Allora Sono intervenute L'automobile Perché tutto lavoro Lo dove Scusate Sì È intervenuta La BMW Guidata da Filippo Marchese Sì Sì E il signor Cucuzza Con altre due persone Con altre due persone Sì A questo punto Su carregar Un lucchia Della modicetta S'ha avuto semplito Non l'hanno lasciato Cosa hanno fatto? Finire il lavoro E si ne erano Per la via Conte Federico Ficci subito Se ne erano a casa Per un Michele Subito i fici Giassero Però Si sono immessi Sulla Via Conte Federico In via Miro-Giaffar C'è la via Conte Federico E subito Si fa a fondo Favarello O ne volemo Ok E si sono dileguati E subito Fuori a casa Ficciano 300 milioni Si sono allontati Quindi sull'automobile Che cosa hanno caricato? Lo ripeta così Caricato Signor Seppo Zella Perché con la botta Che io avevo Giubbino antiproiettole Con la botta di 108 La potenza Abbattio sempre Perché arriva sempre un colpo Dopo una pari di giorni Io se ne avevo a mare Novellino Di Michele Greco A Casseldaccia C'è stato un mio cugino Personalmente L'ha visto E non aveva niente Come feritura E che Giubbino Si è salvato Perché lei ritiene Che l'avesse indossato L'ho preso Ma io non è che Sa ciò che c'è avuto Giubbino Io questo Giubbino Mi viene dopo Lo vedono a mare Che un costume Aveva poche cose È una deduzione Che lei dai Non è una deduzione Fatti Fatti Ma dico Il fatto che avesse Il dubbio di Giubbotto Antiproietto Perché la caduta che fece E dopo quando veniva a mare Non aveva niente Aveva poche cose Festeria Perché la botta C'è un po' Giubbino Per fortuna sua Lei perché è chiamato Corioliano della Floresta Io sono chiamato Corioliano della Floresta Perché sono stato Diverse volte L'aditante E quando sogno L'aditante Mi cava sempre nella campagna E così mi misero Un nome Corioliano Era la Floresta Tutto là il film Andava sempre in campagna Quando era la Titana Sì perché Accettavo mi feci Ora poi In relazione Al fatto del Al fatto del Buffa E dell'appartamento Del Buffa Lei Ad raggiungere Ad raggiungere Ad raggiungere qualche cosa Ma ne avessi tante cose raggiungere Però se c'è Con il confronto Con il signor Buffa Mi riservo Se c'è il confronto Con il Buffa Da dire Il signor Buffa Ha fatto L'uomo d'onore E' una poeta blindata Che è il valore di un milione e mezzo Il signor Marcello Il signor Marcello Riccardo a Venere Che abita al terzo piano L'avviso Però per paura Il marcello Si può far ammazzare Il signor Buffa Fa finta di non vedere Il signor Buffa Con la porta che si può E' stata messa a suo caso Ha fatto la dichiarazione Che era bruciata Ha strappato la porta Cioè ha svelto la porta No arrivò Io arrivavo a sua casa E mi portavo a sua porta Cioè ha sostituito La porta blindata E questo è il signor Buffa E questo è il signor Buffa Se puoi togli mombra Se puoi tutto Dove avere bisogno Ma sono gente misera Perché quando vanno a fare Nel suo caso In un uomo d'onore Non la sa fare Perciò Quando lui è stato interrogato Dice La porta era bruciata E ce la canciavo Ma poi ci autorizzò il signor Buffa Questo è il signor Buffa Vincenzo E mi rifermo Per adesso per altre cose Non era stato autorizzato da nessuno Comunque si è portato la porta E si è messa nella sua casa Si è messa nella sua casa O bello chi dice Sostituendola con un'altra porta No Non ci ne ha messo niente la porta Ah niente Perciò l'appartamento è rimasto I due cilisti che c'era Era bruciata e ce la canciò Ah Così i film Questo è un uomo d'onore però no Non è che magari Un pezzo O noi bacchugliano un pezzo C'è rubato E ce l'avere bisogno Un uomo d'onore Voglio precisare Dunque io Riprendiamo Riprendiamo il processo A lunedì mattina Alle ore 10.45 Riprenderemo l'interrogatorio Ehm Ordinando la traduzione Degli imputati detenuti E l'accordo era questo Ehm Disponendo che tutti coloro Sì se lo possono riportare Disponendo che coloro Che debbano comparire senza autoregitazione Compaiono per quella data E per quell'ora Diense è tolto Grazie a tutti Ja